Presi e valore aggiunto di Vaio in panchina, Chianese di Michele di punta, Bari come contro la Fiorentina, sola eccezione, Innocenti per Madsen. Arbitro 30 lange, assistenti Galvani e Mitro. La sintesi montata da Antonio Clemente ci porta al diciassetesimo. Salernitana in azione, Chianese vede sulla sinistra Vanucchi, corridoio, Vanucchi velocissimo, gol. Gran sinistro, gol 1-0 al dodicesimo del primo tempo, rivediamo il ritardo Innocenti che cerca di trattenere Vanucchi e De Rosa. Gran bel gol, quello di Vanucchi, 1-0, vediamo la reazione. Calcio di punizione, colpo di testa di Divaio, Masinga salva e poi Mancini riesce ad avere la meglio con una smanacciata su Vanucchi ancora bene appostato. Entra Olivares, esce De Rosa, prima sostituzione nelle Bari. Lunghissimo lancio in avanti, numero di Zambrotta, molto bravo, rivediamo. Bella la conclusione, non si lascia sorprendere Balli. Attenzione, 42esimo, Osmanoschi, gol, 1-1, rivediamo. Il bellissimo lancio di Olivares, di sinistro, Balli battuto in casa dopo 369 minuti, ripresa, quinto minuto, Zambrotta per Bressan, non trova Masinga. Sostituzione nella salentana, entra Divaio, esce Bernardini, buona la sua partita. Di Michele, Divaio, destro, Mancini devia come può. Ventesimo, cross di Di Michele, Divaio di testa, viene messo giù da Ascentis, poi Bolic, gol, Di Piatto. Bolic era appena subentrato a tosto, rivediamo. Il fallo di Di Ascentis su Divaio che ha colpito di testa e poi Di Piatto, destro, Bolic. Dunque 2-1. 46esimo, Divaio per Chianese, tutto solo azione regolare, sinistro, para Mancini. Olivares, Zambrotta, Alzafusco, sinistro di Knudsen, appena entrato, primo gol in Serie A per Peter Knudsen. Era subentrato a Innocenti. Di Scena Lex, Masinga, colpo di testa di Osmanoschi, superato Balli, poi Breda, in qualche maniera, pone rimedio all'uscita di Balli ed evita la sconfitta. Le squadre di Fascetti hanno la particolarità di non mollare mai e il Bari lo ha dimostrato alla Rechi, rimontando il risultato benché in dieci, nell'ultimo quarto d'ora, per l'espulsione di Diego De Ascentis. Per i pugliesi, striscia positiva di otto risultati. La Salernitana, solita bella squadra.